50.000 abitanti della Valdichiana a Retina saranno più lontani da Firenze. Sono quelli dei territori di Castiglionfiorentino, Cortona, Camucia, Foiano, Marciano e Lucignano e le decine di frazioni del circondario che vengono penalizzati dal nuovo orario di Trenitalia in vigore dal 16 dicembre prossimo. La causa è la cancellazione del treno regionale 23.512 Firenze Chiusi che con il nuovo orario termina la sua corsa ad Arezzo. La denuncia è del Comitato Pendolari della Valdichiana che affermano nonostante le segnalazioni l'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli non ci risponde. Eppure affermano i pendorali la soluzione ci sarebbe. Il treno RV3099 tutto toscano alla cui tratta si potrebbe raggiungere le fermate nelle stazioni della Valdichiana allungando la sua corsa di soli 6 minuti. Adesso ferma soltanto a Terontola lasciando a piedi il bacino di utenza dei territori circostanti e allungando il tragitto di ritorno dal lavoro o dall'università. La proposta è stata appunto portata all'attenzione dell'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli che però fino ad oggi, scrivo nei pendolari, ha ignorato il problema. I comitati dunque, riconoscendo il prezioso lavoro che la regione toscana sta facendo con Trenitalia e con il governo per mantenere gli intersiti, chiede un piccolo ulteriore sforzo per non allontanare ancora di più la Valdichiana a Retina da Firenze. Grazie a tutti.